Ecco, sono in giro e fa sì che ci sia un po' pronto e un po' di valutare come Presidente perché mi ha dato la possibilità a lui di usare l'Università per riconoscere. Valuteremo un po' il tutto e il Presidente è una persona per me speciale e faremo le cose il meglio possibile per riconoscere. Grazie a voi e insieme.